ciao amici di youtuber oggi vi mostro come fare una lasagna alla bolognese o meglio come la faccio io qua in ristorante dove i nostri clienti vanno matti per questa lasagna ma prima di andare avanti please like this video cos'è aiutato il mio canale di youtube a crescere e se non siete iscritti iscrivetevi ma basta con le chiacchiere andiamo a preparare questa lasagna alla bolognese let's go bene questa è la mia postazione per fare la lasagna alla bolognese farò due placche di lasagne allora cosa ci servirà un buon raguolo bolognese mi metterò il link in alto a destra per farlo perfettamente una buona besciamella tradizionale mi metterò sempre il link in alto a destra per farla perfettamente quindi del grana della mozzarella a julienne chiaramente della pasta sfoglia all'uovo e mi faccio portare il ristorante questo tipo di pasta sfoglia quando tagliata a strisce perché le foglie di pasta sfoglia praticamente non coprono tutta la la placca quindi avrò una striscia qua laterale per completare la placca quindi cominciamo a farle ecco dalla visione dall'alto un consiglio se usate la besciamella calda dovete avere anche evo caldo perché non potete mettere diciamo un ragù freddo su una besciamella calda come prima cosa facciamo un fondo di besciamella e ragù un bel mescolo di ragù e misceliamo e cominciamo a mettere grazie 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 Vedete come vi ho detto, qua mi rimane una striscia di placca di scoperta, quindi con quello io ho fatto delle strisce di sfoglia e andrò a coprire. Quindi continuiamo con... ... ... ... ... inseriamo adesso mettiamo la mozzarella ben di suddita migrana dopodichè un altro strato di sfoglio di lasagna bene siamo arrivati all'ultimo strato un bel po' di ragù perchè è l'ultimo strato della lasagna e misceliamo e copriamo con abbondante grana ed ecco qua la lasagna alla bolognese adesso cosa facciamo accendiamo il forno impostiamo la temperatura a 180 gradi per 45 minuti adesso lo facciamo scaldare dopodichè inseriremo le lasagne e inseriamo la bolognese e inseriamo la bolognese manca un minuto e le lasagne diciamo sono pronte che profumino che profumino bene dopo averla messa in abbattitore a raffreddarsi noi il ristorante la porzioniamo facciamo le monoporzioni così sono pronte quando il cliente ci le chiede quindi praticamente la dividiamo in tre in senso della lunghezza la dividiamo in tre in senso della lunghezza e in quattro nel senso della lunghezza quindi prendiamo la pellicola usiamo un pezzo poi con una spatola prendiamo la nostra porzione di lasagna vi dico anche il peso quanto è 490 grammi di lasagna ed ecco qua che ce le siamo divise tutte praticamente da due teglie abbiamo ottenuto 24 porzioni bene quando noi dobbiamo cucinare la lasagna la mettiamo fuori dal frigo la mettiamo sul piatto e la mettiamo al microonde per due minuti a riscaldare ecco qua scaldata adesso la mettiamo in forno a 200 gradi per 5 minuti insieme alla mozzarella e al grana per gratinare ecco qua ecco qua lasagna pronta quindi questa è la lasagna alla bolognese che noi serviamo al nostro ristorante che piace tantissimo e ci è molto richiesta quindi se vi piace il video mettete un bel like così evitate il mio canale di youtube a crescere se non siete iscritti iscrivetevi ed è la nostra di spalto giusto ossia al prossimo video